Carenze di organico ma soprattutto una lentezza della macchina giudiziaria che porta ad avere lunghi rivide e processi arrivando in alcuni casi come in corte di appello a date che sfiorano il 2021 sono le lacune maggiori della giustizia in basilicata denunciate dai rappresentanti di autonomia forense del sindacato avvocati a distanza di una settimana dall'inaugurazione dell'anno giudiziario. In particolare vogliamo sottolineare come gli organici attuali dei magistrati portino a ritardi non più ammissibili nella definizione dei processi. Per questo fanno sapere il necessario un intervento urgente sul funzionamento dei tribunali lucani. Riforma a costo zero, inizio dell'udienza alle ore 9, presenza dei magistrati nei luoghi dove si svolge l'attività, presenza quotidiana dei magistrati. Questa è una riforma a costo zero che noi reclamiamo. I due avvocati hanno poi evidenziato che l'accorpamento del tribunale di sala consiglina, quello di Lago Negro, non ha portato alla sommatoria dei magistrati che dovrebbero essere di una quindicina in totale secondo la pianta organica ufficiale ma realmente oggi sono solo poche le unità in servizio come pure per il palazzo di giustizia di Melfi la cui soppressione rappresenta una perdita fondamentale per il territorio.